Riccardo Lecca ai microfoni di Budo International, allora come ti senti prima di questo match che affronterai domani a Super Combat? Sicuramente un impegno importante, mi sento sereno, tranquillo, non più preoccupato di altre volte perché ho già avuto impegni difficili e importanti. Non sottovalgo il mio avversario perché è un avversario molto bravo, ho avuto modo di vedere qualche cosa di lui, quindi di intuire che è un avversario estremamente valido. Farò del mio meglio, cercheremo soprattutto di fare un bel match che è la cosa più importante. Come ti sei rinato per questo match? Per questo match sono stato diverse settimane in Olanda, come mi ha consuetudine fare in occasione di match impegnativi, qual è questo. Quindi sono stato nella palestra di music e di gym dove vado spesso, ho affrontato pesanti e impegnativi sui sparring. In Italia ho la fortuna di avere una palestra e di avere compagni di allenamento come Manuela Raiini o altri atleti che si allenano in palestra da me. Quindi avere dei compagni di allenamento quotidiani che mi stimolano e mi aiutano a dare il 100% in ogni allenamento. Perfetto, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per domani e speriamo di rientervistarti vittorioso. D'accordo, grazie, grazie.